Perché purtroppo, lo diciamo con rammarico, non è una squadra che lotta per non retrocedere. Cosa ne pensi di questa partita che si giocherà domani pomeriggio? È una partita da prendere con le pinze, una partita delicata e noi abbiamo solo a perdere. Come avevamo solo a perdere domenica scorsa. Se sbagli sei un imbecille, sei un deficiente. Perché nelle carte c'è scritto questo. E quindi ancora una volta ci troviamo davanti a una situazione, anche perché noi oggi siamo in emergente. Abbiamo una squadra fuori e una dentro, numericamente. Perché abbiamo tra gli squalificati, gli importunati e tanti ragazzi purtroppo che hanno qualche piccolo problema, ne hanno, vediamo quanti? Da 9 a 11 fuori. Quindi, se dobbiamo un pochettino stringere con quelle che abbiamo e cercare di fare, cercare, sicuramente faremo una prestazione importante perché dobbiamo onorare la partita come abbiamo sempre fatto. Poi, se si sbaglia, se si indovina, se dice o si perde, lo direi al campo sempre. Però noi siamo lì sapendo, consapevoli che abbiamo solo da perdere. E quindi mi aspetto una partita di grande concentrazione e poterla mettere in cascina fin da subito. Gli squalificati li conosciamo, che sono gli importunati? L'importunati è che c'è Lala, c'è Biondo, c'è Ruggeri, c'è Faulisi, c'è Casà. Mezzo e mezzo, diciamo, al 50% che verranno in banchina con noi, sono Caternichia, Gellrusso. C'è Biancola che probabilmente domani quasi sicuramente ci sarà, però è tutta la settimana che non si allena. Ma io non ho difensori e lo stiamo facendo riposare a casa apposta per evitare e fare in modo che possa essere dei nostri domeniche. Diciamo che questa partita arriva in un momento un po' particolare per l'Ak, ragazzi. Però non dobbiamo dimenticare che l'Alcamo ha vinto una sola volta in tutto il campionato. A maggior ragione. Io ricontinuo a sottolineare che noi abbiamo solo da perdere a giocare questa partita in maniera rilassata. Quindi dobbiamo essere più concentrati che qualcuno che a te. Questa è una prestazione che dobbiamo assolutamente fare, visto le vicissitudini, visto le cose che ci stiamo raccontando oggi. A maggior ragione dobbiamo sottolineare questo e la squadra deve essere, non dico incazzata, arrabbiata, ma concentrata per fare prestazione giusta e dare un momento di respiro ai compagni che in questo momento sono in difficoltà.